Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video Allora non so se avete seguito il C6 Ballmaster, questo torneo online fra i migliori giocatori al mondo Purtroppo la federazione scacchistica sta facendo un sacco di problemi ancora per via di questo virus A giocare, anche noi in Italia siamo completamente bloccati, molti circoli sono bloccati, le regole sono molto stringenti Quindi molti circoli preferiscono giocare online, anche se giocare online non sarà mai come giocare dal vivo Quindi vabbè, per il momento ci atteniamo alle regole Oggi volevo mostrarvi due partite, una velocissima nel quale Carlsen perde dopo 4 mosse Un grande maestro che perde dopo 4 mosse e un'altra un po' più interessante Allora, vediamo subito questa partita giocata fra Ding Liren col bianco 2836 puntiero E Magnus Carlsen con il nero 2881 Andiamo a vedere come è stata questa partita dove Carlsen con il nero perde dopo 4 mosse C4 E6 G3 Donna G5, così subito, alla riscossa Alfieri G2 E Donna per D2 Ovviamente questa donna è attaccabile da 3 pezzi E il bianco non si chiede nulla dopo questa mossa ma cattura Ovviamente è stata una mossa kamikaze Ovviamente Carlsen sapeva che era una mossa sbagliata Ma perché l'ha fatto? Essenzialmente è stata una mossa di cuore Carlsen ha molta stima del suo avversario, di Ding Liren E che cosa ha voluto fare con questa mossa? Siccome appunto era un torneo online La partita precedente dove entrambi i giocatori stavano giocando una partita molto bella Ed era in una posizione pari Il cinese ha perso Per via del fatto che si è disconnesso il suo computer da internet Cose che possono capitare Quindi non riuscendosi più a riconnettere alla partita Gli è stato dato un punto a Carlsen Per restituire il favore Il campione del mondo ha fatto questa scelta molto bella Lui stesso dice Ammette di essere un giocatore molto competitivo Che magari in altre situazioni non avrebbe mai fatto questa mossa Perché a lui non interessa quello che pensano gli altri Fa quello che gli viene istintivo Ma ha detto proprio che ci teneva a mettere in pari le cose Proprio per la profonda stima che prova verso il suo avversario E questa è stata la prima partita Molto interessante Questa partita ha fatto parlare molto anche di questo torneo Ma voglio portarti nella seconda partita Quella più interessante Dato che poi in finale di questo torneo Ci sono stati Carlsen e Ghiri Secondo te chi ha vinto il torneo? Domanda piuttosto scontata L'ha vinto Carlsen portandosi a casa la bellezza di 45.000 dollari Secondo premio Ghiri portandosi a casa 27.000 dollari Comunque non sono pochi Questo match finale fra i due giocatori è stato piuttosto strano Carlsen ha giocato via via sempre peggio Man mano che il numero delle partite aumentava Giocava sempre peggio E Ghiri poteva sfruttare queste piccole imprecisioni Che commetteva il campione del mondo Non è stato in grado di sfruttarle E dunque si è ritrovato a perdere il match Carlsen non ha mai perso una partita durante questo match Questo gli fa onore E niente poi il giorno dopo Ghiri ha scritto su Twitter Grazie a tutti per il supporto E' sempre un onore per me perdere contro Carlsen E niente da domani mi rimetterò a studiare gli scacchi Come sempre Simbolo di grande umiltà Andiamo a vedere dunque la partita come è andata Il 21 di agosto inizierei a giocare a scacchi in maniera differente Se io fossi in te mi farei trovare libero Col bianco Carlsen Con il nero a Nish Ghiri Via D4 Cavolo F6 C4 E6 Cavallo F3 D5 Cavallo C3 C5 Oh questa è l'odiosissima semitar rush Dove subito c'è tensione su questi pedoni centrali Qui solitamente si preferisce prendere una decisione E la cattura migliore è sempre questa C'è di catturare col pedone C il pedone D E lasciare eventualmente poi all'avversario il gioco con i due pedoni sospesi Qui se il nero gioca in questo modo Insomma E' da vedere E' da vedere Il nero tuttavia gioca cavallo per D5 Devo dire che questo tipo di continuazione viene utilizzata tantissimo Di tornei fra i top giocatori E' da tenere in considerazione E4 Continuazione classica Cambio sul cavallo Cambio 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 E ci si viene a trovare con questo tipo di struttura Adesso Ghiri gioca alfiere B4 Scacco guadagnando un tempo sull'arrocco Adesso alfiere B2 Cambio Cambio Io penso che a questo punto siamo solamente alla decima mossa Il nero ha già cambiato due pezzi Lo scopo del nero probabilmente è quello di accontentarsi di un pareggio E In effetti quando giochi contro il campione del mondo Potresti anche accontentarti di un pareggio Ma vediamo come continua la partita Arrocco corto Alfiere C4 Sviluppando l'alfiere Cavallo D7 Trovando una collocazione migliore per questo cavallo Arrocco corto E adesso il problema del nero è trovare una collocazione Quell'alfiere C8 che è completamente chiuso Quindi c'è B6 Con la possibilità di mettere l'alfiere in fianchetto Carlsen invece non ha problemi di sviluppo per quanto riguarda i pezzi leggeri Ma è il momento ora di attivare le torri Dove vengono attivate? La torre in A viene attivata su D1 Proteggendo anche questo pedone Alfiere B7 E l'altra torre viene messa su E1 Proteggendo anche questo pedone Tieni conto che ora il nero tramite cavallo F6 Potrà creare una doppia minaccia su questo pedone Tramite alfiere e cavallo Quindi il bianco dovrà prendere provvedimenti in qualche modo Torre C8 Mettendo questa torre su questa colonna aperta E facendo pressione sull'alfiere Che adesso si deve spostare Qui l'alfiere Carlsen lo mette su B3 Onestamente anche con i consigli del computer Non sono sicuro che questa sia la diagonale migliore per questo alfiere Ma forse il D3 avrebbe dato più chance In futuro si sarebbe potuto mettere anche in B1 Però vabbè, comunque la partita è andata con alfiere B3 Torre in A8 E adesso ci sono, diciamo, due continuazioni principali Torre 3 Interessante Interessante Oppure la semplice H3 Dopo H3, per esempio, con la F6 Come ti dicevo, ora c'è la doppia pressione Su questo pedone Donna F4 Per proteggere questo pedone insieme alla torre Donna C7 Proponendo il cambio di donne Quindi togliendo un difensore su E4 Cavallo E5 E questa è una mossa molto 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 carina Una continuazione che si vede spesso Torre 3 Invece è stata giocata da Carlsen Cavallo F6 C'è sempre ora il doppio attacco su questo pedone E ora bisogna fare particolare attenzione Qui solitamente si gioca alfiere C2 In modo tale da proteggere questo punto Carlsen a questo punto introduce una novità Introdurre una novità a grandi livelli Significa spiazzare l'avversario Poiché qui i giocatori sanno già Che cosa bisogna giocare Qual è la continuazione più forte Carlsen decide di uscire al di fuori della teoria Che prevedeva pure appunto come ti dicevo Una alfiere C2 E... O donna D3 E guarda qui Cosa gioca? D5 Wow D5 è una mossa veramente 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 interessante Come ora risponde il nero Decide di catturare Con il pedone E adesso ancora una volta Un affronto da parte del bianco Che non cattura il pedone Ma spinge Spingendo guadagnando spazio E non solo Ora A seguito di queste mosse Aspetta che torniamo indietro Che la rivediamo Con questa spinta in D5 Si è aperta Una casa bellissima Ops scusami Una casa bellissima Per i pezzi del bianco Che potrebbe essere una donna Che potrebbe essere il cavallo E infatti Il piano di cassa È proprio questo Ora Togliere spazio a questo cavallo Piazzarci poi a un bellissimo cavallo In D4 Dove il cavallo della D4 Controllerà Un sacco di case Ora infatti Questo cavallo va in E4 Poiché è supportato Dall'alfiere e dal pedone Quindi non teme nulla Si minaccia la donna Che va in E1 Donna C7 E adesso finalmente D4 E il piano di cassa È andato a buon fine Cioè quello di Piazzare un bellissimo pezzo Su questa casa Adesso A6 Una mossa piuttosto obbligata Poiché questo cavallo Minacciava di trovare Un'altra casa migliore Che era D6 Dove da D6 Ovviamente Questo cavallo Era praticamente indistruttibile Ovviamente Si poteva cambiare Con questo cavallo Però Ci potevano essere Sacrifici di torre Questo cavallo spariva Questo cavallo in D6 Diventava fortissimo E bisognava poi restituire Probabilmente Il favore In qualche modo Detto ciò Adesso si potrebbe giocare Una tranquilla F3 Per togliere questo cavallo Ma Le sorprese Non sono finite Con Carlsen Le sorprese non finiscono mai H4 Una risorsa di attacco Veramente Veramente Interessante A questo punto Seguono una serie di Imprecisioni Da parte di Nero Che rendono l'attacco Sempre più forte Torre in C Torre in C Va in D8 Ok Ora Il nero ha perso Il controllo totale Sulla colonna C Con la torre La donna Non è possibile Giocare una mossa Di questo tipo Mentre Con questa mossa qui Il nero Non ha più Il controllo totale Della colonna C E possono esserci Mosse interessanti Adesso È il turno Di giocare F3 Guarda un po' Questo cavallo Non ha molto senso Andare su C3 Anche perché Il nero Non ha più Il controllo Di questa colonna E quindi Il bianco Potrebbe catturarlo Poiché ha due attaccanti Su questo punto E di conseguenza È costretto Ad andare in C5 Che non è Una brutta casa Per il nero Ma sarebbe stata Molto meglio Una casa come C3 Che cosa pensi? Ora questo cavallo Attacca questo alfiere Che in realtà Non è che Fino ad ora Abbia avuto Un grande senso Nell'attacco E a scopi difensivi H5 Attacco a baionetta Andiamo Giù cattivi Non ci interessa Del domani Non vi è certezza Cavallo E6 Per bloccare Questo piedone E probabilmente Andare a cambiare Anche I cavalli E ora Questa bellissima Mossa Cavallo F5 Classica Mossa Fastidiosa Da gran maestro E il cavallo Ancora una volta Minaccia Di andare in D6 Ma soprattutto Questo cavallo Supporta L'attacco Su G7 Ovviamente Questo cavallo Ingollosisce Anche a spinte Che possono Indebolire La struttura Di pedoni Perciò Questa mossa È veramente Bellissima D4 D4 O O O O O Il nero Cerca di togliere Spazio Al bianco Vedi Si stanno aprendo Le diagonali Si sta Allungando la colonna Si sta Minacciando Una torre Quindi Questa Forse è più Una mossa Psicologica Però semplicemente Viene parata Con Raddoppio Di torri E cavallo C5 Con Attacco Doppio Su questi Pezzi Sembra Che il nero Stia bene Ma Ma Bisogna Fare Parecchia Attenzione Innanzitutto Adesso Questo punto Qui Cade Infatti Torre per D4 Torre per D4 Torre per D4 Ghiri Cerca di Semplificare Il tutto Poiché Più semplifichi Più hai possibilità Di Pareggiare E adesso Carson Trova una risorsa Interessante Ti lascio Dieci secondi Per pensarci E la mossa Che viene giocata Dal bianco Tieni conto Che ha una torre Sotto È Donna G3 È una Mossa intermedia Viene chiamata È vero che c'è sotto La torre Però ora il nero Non può catturarla Altrimenti Si becca il matto Su G7 Quindi ora Bisogna pensare In che modo Bisogna Difendersi Da questo matto Ovviamente Un'altra continuazione Potrebbe essere Semplicemente Quello di catturare A questo punto Per esempio Alfero C8 Cavallo D6 Comunque la situazione Per il bianco Sarebbe stata bellissima Dicevamo che invece È stata giocata Donna G3 Con l'idea di attaccare Idea di matto Bisogna difendersi Non ci sono Troppe possibilità Difensive Non G6 Andando ad indebolire La propria struttura Permettendo salti Permettendo spinte Insomma Bisogna fare Particolare attenzione Adesso Si può finalmente Catturare il cavallo Siamo quasi in parità Con i pezzi Il nero Anzi Non siamo in completa Parità Siamo 5 pedoni 5 pedoni Cavallo Che si compensa Con l'alfiere Però L'attività Dei pezzi bianchi È veramente Imparagonabile Rispetto a quella Dei neri Che cosa fa? Giri cerca ancora Una volta Di cambiare i pezzi Per rendere L'attacco del bianco Sempre più Debole E adesso C'è un altro Colpo di scena Ti lascio altri 10 secondi Per pensarci Non lo diresti mai Ma la mossa Che viene giocata È E6 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 C'è Intanto Un attacco Di scoperta E ovviamente Il nero Non può Catturare la donna Altrimenti Si becca il matto Qui non può andare Perché c'è il cavallo E se per esempio Adesso il nero Decide di prendere La torre Semplicemente Si perde la donna E se il nero Vuole catturare Questo Pedoncino E gli è stato offerto In sacrificio Semplicemente Ancora un'altra Perde la donna E poi Praticamente C'è il matto In poche mosse Quindi questa è una mossa Molto forte Giri decide Di giocare Con una mossa Intermente Siccome Questo attacco Di scoperta È molto forte E dice Intanto ti faccio Scacco su C1 Poi dopo Penso a risolvere I problemi Con questo pedone Ora vai in H2 E adesso Ancora una volta Cambio i pezzi Così Cerco di finire In parità Diciamo che Il nero Non ha avuto Molta inventiva Adesso C'è ancora C'è ancora Un'altra mossa Eccezionale Che te la faccio Ti faccio ragionare 10 secondi Vediamo se riesci a vederla Ok Penso che tu abbia visto Sicuramente Donna B8 Con scacco Attacco All'alfiere Sembra anche Scaccomato Sembra Ma c'è questa Risorsa difensiva E l'alfiere È difeso Dalla donna La mossa invece Corretta È E7 Complimenti Se l'hai vista E7 Si minaccia La promozione Il re Non può avvicinarsi Perché questa casa È tenuta al pedone E la torre Non può avvicinarsi Perché questa casa È tenuta al pedone Questo pedone In E7 È micidiale Ok Come continuò La partita Continuò con Donna C8 Aumentando Gli attacchi Su questo cavallo E tenendo anche La casa di promozione Ma qui Carson Non sbaglia Una mossa È molto Ma molto Molto Preciso Donna N5 Minacciando la torre E minacciando Il matto Torre N H4 Cercando di Resistere Il più possibile Ma qui Bisogna stare Molto attenti Re G3 Questo cavallo È troppo importante Per l'attacco Adesso G per F5 Re per H4 E alla prossima Questo bellissimo pedone Andrà a promozione Non ci sono modi Per fermarlo Se per esempio Donna E6 Cercando di cambiare tutto Semplicemente Ti cambio Cambi E mi rifaccio Un'altra Donna Eccezionale Questa partita Sicuramente Carson Ha trovato Delle combinazioni Fantastiche Per i propri attacchi Il nero Invece Ha giocato Molto passivo Sin da subito Ha voluto Cercare di cambiare I pezzi Nelle partite successive Come ti dicevo Carson Ha giocato Sempre peggio E Ghiri Ha giocato Assolutamente bene Ma non è mai riuscito A trovare Quelle mosse Che gli permettessero Di andare In una situazione Nettamente superiore Così da vincere la partita Tant'è Che nei match Di scontro Contro Il campione del mondo Non è mai riuscito A vincere una partita Bene Spero che anche il video Di oggi Vi sia piaciuto Come al solito Vi invito A lasciare un like Un commento E iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto Noi come sempre Ci vediamo domani Con un altro nuovo video Ciao E ora per continuare Che cosa posso fare Beh innanzitutto Ti consiglio di iscriverti Al nostro canale In modo tale Da non perderti Le nuove video lezioni E poi puoi vedere Il video Che è stato più cliccato In questa settimana Ci vediamo Ciao